L'arrivo della settima tappa del Giro d'Italia a Termoli sarà anche l'occasione per aprire una riflessione sulla sicurezza stradale. L'ACI proseguirà la campagna Rispettiamoci, nata due anni fa per ribadire l'importanza dei comportamenti corretti alla guida, soprattutto quando l'automobilista incontra chi pedala o cammina. L'opera di sensibilizzazione parte dai numeri impietosi, quelli relativi agli incidenti stradali secondo lo studio ACI Istat. L'anno 2020 non viene ritenuto statisticamente significativo, viste le restrizioni anti-Covid-19, mentre il 2019 evidenzia come un decesso su due appartenga alla categoria dei cosiddetti utenti vulnerabili. In particolare si è registrato un forte aumento tra le vittime dei ciclisti, più 15,5% rispetto al 2018, dentro e fuori le aree urbane. Nella provincia di Campobasso nel 2019 si sono registrati 396 incidenti stradali con lesioni, di cui 15 mortali. Di questi 7 sono stati con una bicicletta, l'1,1% dei sinistri complessivi. La maggior parte si è verificata sui rettilinei e nelle curve, provocando 7 ferimenti di ciclisti. Peggiore lo scenario, anche se si considerano i pedoni, 56 sono stati investiti nell'8,5% degli incidenti totali. Le vittime sono state due, tragicamente investite in particolare sui rettilinei e agli incroci. Nello specifico, nel comune di Termoli, sede dell'arrivo della settima tappa del Giro 2021, nel 2019 si sono registrati 125 incidenti stradali che hanno provocato due vittime e 192 feriti. Il presidente dell'Automobile Club Molise, Luigi Di Marzo, ha ricordato che su iniziativa del direttore Francesco Meleca e in collaborazione con gli istituti scolastici del Molise, l'ACI organizza ogni anno tanti corsi sull'educazione stradale. Crediamo, ha detto, che formare i giovani verso corretti e consapevoli stili di guida sia la chiave del futuro per far crescere nuove generazioni di automobilisti preparati e responsabili che abbiano un atteggiamento di rispetto verso tutti gli utenti della strada. Grazie a tutti.